Ma come si baciano gli attori nei film? I baci a bocca chiusa sono la tecnica più utilizzata dagli attori al cinema. In pratica gli attori tengono le labbra chiuse e le appoggiano semplicemente una contro l'altra. Spesso c'è anche il bacio a bocca aperta senza lingua, altra tecnica molto usata dagli attori al cinema. Ma come si fa un bacio finto? Si mette una mano sul lato del collo dell'altra persona, così che le dita si trovino dietro l'orecchio e il pollice possa fermarsi sulle labbra. Quando ci si avvicina per il bacio, si toccherà il pollice e non le labbra. Ma qual è l'attore che bacia meglio? Secondo Shannon Stone, i migliori baci di Hollywood sono quelli di Robert De Niro. L'attrice alla domanda su chi baciasse meglio o peggio sul set a Hollywood ha immediatamente fatto il nome di De Niro. Però il bacio è tutto un trucco di prospettiva. Tom Cruise, per esempio, è uno di quegli attori che le scene di azione le recita lui, così come ci sono attori che baciano davvero un altro attore o controfigura. Però ormai la computer grafica fa miracoli e se a questo aggiungiamo che viviamo nell'epoca della deepfake e dell'intelligenza artificiale, si può già immaginare come sarà difficile nel tempo capire cosa è vero e cosa è finto. Quando però un attore si rifiuta di dare un bacio a un altro collega sul set, si utilizzano le controfigure. In Cinderella Man venne usata la controfigura di Renée Zellweiger per i baci con Russell Crowe, anche per Lindsay Lohan che bacia Charlie Sheen in Scary Movie 5, mentre Chris Hemsworth ha baciato la sua vera moglie in una scena di Thor invece di dare un bacio finto alla collega Natalie Portman. C'è anche chi si è rifiutato di dare baci sul set per motivi religiosi o per non far ingelosire il fidanzato. Per il suo video I Will Be, Leona Lewis ha detto di no al bacio con Chase Crawford, ho detto non se ne parla proprio, ha raccontato la pop star. Sembra che per lo stesso motivo Brad Pitt non volesse baciare Cate Blanchett sul set del curioso caso di Benjamin Button. Allora si era detto che avendo qualche problema a casa con Angelina Jolie, l'attore non volesse far ingelosire la moglie. Pare che il regista David Fincher ci abbia messo un po' a convincerlo e poi alla fine quella scena è stata effettivamente girata. Chi invece era davvero malato era Robert Pattinson e per questo motivo l'attrice Reese Witherspoon si rifiutò di baciarlo sul set di Come l'acqua per gli elefanti. Rob aveva il peggior caso possibile di raffreddore che mi sia mai capitato di vedere. Non faceva altro che starnutire e soffiarsi il naso. ha raccontato l'attrice. Semplicemente perfida è stata Jennifer Lawrence con Liam Hemsworth sul set di Hunger Games. Lo ha raccontato l'attore stesso. È una delle mie migliori amiche, le voglio molto bene, ma se avevamo una scena in cui bisognava baciarsi, lei lo faceva apposta a mangiare aglio o del tonno in scatola o qualcosa di altrettanto disgustoso. Lo faceva proprio prima di girare, mi diceva ho mangiato aglio, ho mangiato tonno e non mi sono lavata i denti. E io pensavo, che bello, non vedo l'ora di assaggiarli anch'io. Ma il motivo più comune tra chi non vuole baciare un collega è un altro. Alcuni attori non si sopportano. Julia Roberts ha definito il suo co-protagonista in Invitati Molto Speciali, Nick Malt, un essere disgustoso, sembra faccia di tutto e apposta per essere repellente, ha raccontato. Il feeling già poco esistente sullo schermo era niente a confronto di quanto accadeva fuori dal set. Julia Roberts ha fatto di tutto per evitare un bacio con il collega sul set. Alla fine dovette cedere per fare l'unica scena che poi si vede del bacio sul set di questo film. Ryan Gosling, invece, odiava così tanto Rachel McAdams da lasciare la stanza addirittura ogni volta che lei entrava. E pur di non baciarla sul set di Le Pagine della Nostra Vita, ha chiesto che venisse licenziata e sostituita con un'altra attrice. Col senno di poi erano solo schermaglie amorose. La coppia, infatti, è stata insieme per più di due anni. Qualche tempo fa, tra l'altro, è uscita su Netflix You People, commedia romantica che riprende da vicino la trama di Indovina chi viene a cena, famoso film del 67 in cui una ragazza bianca si innamora di un medico afroamericano e deve presentarlo ai genitori prima di poterlo sposare. You People ha una trama molto simile. In questo caso, un uomo di origine ebraica deve presentare ai genitori la nuova fidanzata musulmana. Fin da subito si è parlato del fatto che tra i protagonisti ci fosse pochissima chimica, l'avevano notato anche gli spettatori, al punto che pure il bacio che i due si scambiano nel matrimonio alla fine del film, sembra forzato. Parlando di recente in un podcast, però, uno dei membri del cast ha detto che non solo il bacio era forzato, ma non è mai esistito. È stato aggiunto in post-produzione grazie agli effetti speciali. Insomma, c'è tutto un mondo dietro i baci nei film. Ditemi nei commenti la vostra, se conoscevate questa curiosità e se ne avete altri inderenti a come si fanno i baci nei film. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è acchiazione, mettete mi piace a questo video, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti e curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video!